Ciao a tutti e tutte da Serie TV Italia. Il famoso attore turco Gianni Aman, ormai è sull'onda del successo, e i vari gossip che lo circondano ogni giorno non lo fermano. Oggi parliamo delle ultime notizie su Gianni Aman che arrivano dal web, e riguardano non l'amore, ma la sua carriera. Vi ricordiamo che se avete perso le ultime news sui vostri attori preferiti, in descrizione trovate la playlist Gossip VIP e Celebrità. Ma senza perdere altro tempo scopriamo le ultime news su Gianni Aman. Gianni Aman continua ad essere il protagonista del Gossip dell'estate. La sua storia con Diletta Leotta continua ad appassionare i fans, preoccupati dalle vacanze separate dei due. Dopo il viaggio in Turchia, infatti, pare che tra l'attore e la giornalista sia scoppiata la crisi. Lei si trova in Sicilia, dove si sta godendo le vacanze in famiglia prima di tornare a Milano, e affrontare un'altra stagione calcistica mentre l'attore si trova in Sardegna. Vacanze separate per scelta o crisi in atto? Entrambi preferiscono non commentare e restare in silenzio. Nel frattempo, l'attore si consola con il momento magico che sta vivendo sul lavoro. Dopo aver conquistato la Turchia, Gianni Aman è ormai diventato una star anche in Italia dove nei prossimi mesi sarà impegnato in un progetto con Francesca Chillemi. A settembre dovevano iniziare le riprese di Sandokan, invece sono slittate al 2022. Ma Gianni Aman non si fermerà, da settembre, sarà impegnato sul set di Viola come il mare, nuova serie prodotta da Luxvide. La fiction sarà ispirata al romanzo di Simona Tanzini, Conosci l'estate, edito da Sellerio, e sarà girato tra Roma e Palermo. Le riprese di Sandokan, la serie prodotta sempre da Luxvide in cui l'attore reciterà accanto a Luca Argentero, invece, se non ci saranno ulteriori cambiamenti cominceranno da febbraio 2022. La carriera di Kani Aman, dunque, procede a gonfie vele. L'attore, prima del ritorno sul set, troverà il tempo per trascorrere qualche giorno con Diletta Leotta? Ai posteri l'ardua sentenza. Molti fans, sperano di rivederli nuovamente insieme, felici e innamorati come nelle ultime foto pubblicate sul social, altri sperano che sia veramente finita. Voi che tipo di fans siete? Fateci sapere il vostro pensiero sotto nei commenti. A presto da Serie TV Italia.